5 febbraio 1996 muore a Bergamo il maestro Gian Andrea Gavazzeni direttore d'orchestra, compositore e scrittore era nato nella città lombarda il 25 luglio 1909 entrato per la prima volta in un teatro d'opera a quattro anni, stregato dal Falstaff decide di dedicare tutta la sua vita alla musica 50 anni di direzioni al teatro La Scala di Milano, tournei in Russia e nel mondo ne fanno una figura emblematica della musica colta italiana del Novecento per la prima volta in un'unibili